Sì, Cuba! Siamo pronti per partire! È sempre lui, il numero uno, DJ Damiano Marchetti! Che è mio tutto, ci siamo qui, come dobbiamo a ballare? Poi, come faccio la batalla, ci siamo qui, come dobbiamo a ballare? È sempre la sua, ok, pazza, è molto meglio di non esclusiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti.